YouTube è una piattaforma fantastica che offre a chiunque la possibilità di condividere le proprie passioni, competenze e creatività con il mondo. Ma come si inizia veramente? Il primo passo per iniziare su YouTube è scegliere una nicchia o un argomento per il tuo canale. Chiediti di cosa sono appassionato, cosa mi piacerebbe condividere con gli altri. Una volta scelto l'argomento, fai una ricerca per vedere se c'è già quale collega da cui prendere spunto. Per capire cosa cerca gli utenti puoi utilizzare TubeBuddy che è un'estensione molto utile per la ricerca di parole chiave o un'alternativa a Ubersuggest. Utilizzali entrambi, è molto semplice, basta inserirci il tema che desideri trattare e ti appariranno una serie di keyword con il relativo volume di ricerca. Non preoccuparti se non hai attrezzature costose, puoi iniziare con ciò che hai, uno smartphone, una buona fotocamera va benissimo. Per quanto riguarda il microfono, se hai budget a disposizione puoi acquistare subito un microfono professionale, come ad esempio lo Shurem e Visex che quale sto utilizzando io. Invece per l'editing ci sono molti software professionali, come ad esempio Final Cut Pro, per Mac o Adobe Premiere Pro. Inizia con ciò che ti senti più a tuo agio. Per far sì che i tuoi video siano trovati più facilmente, devi ottimizzarli per i motivi di ricerca. Usa le parole chiave nel titolo, nella descrizione, nei tag del video. Inoltre, crea copertine attivando e utilizzando strumenti gratuiti, come ad esempio Canva. Promuovi i tuoi video sui social media, nei forum e ovunque pensi che il tuo pubblico possa essere presente. Interagisci con i tuoi spettatori rispondendo ai commenti e creando una comunità attiva. La costanza e l'interazione con il pubblico sono fondamentali per crescere su YouTube. Non storaggiarsi e non vedi subito i risultati. La pazienza e la perseveranza parlano sempre. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Se ti è piaciuto, lascia mi piace ed iscriviti al canale. Grazie a tutti.